Salve a tutti, io sono Vicky424, siamo siamo due nobbi oggi purtroppo Vabbè, Oceanfrost1 e JacoFelix Ovviamente, ovviamente io sono qui per cariarlo Per cariarli perché sono due E oggi abbiamo un po' di competitive standard Standard, vabbè Aspettiamo se lo posso Ha ha ha, STANDARD Va bene, andiamo e speriamo di vincere Ok, eccoci Eccoci, vai, tira JacoFelix, tira Ok, raga, mentre Mentre Allora Cerchiamo di vincere O no Già che mi bump il compagno Ok, io sto in mezzo Mentre parlo con il video Parlo anche con i scarsi Nooo, non ci arrivo No, 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 no E' il fatto che mi sto riscaldando, mi sto riscaldando E' tutto il riscaldamento E' tutto il riscaldamento E' tutto il riscaldamento Come danno questo E' perfetto Perché ha fatto che Ha detto il signor JacoFelix Che non ci cerca da mano Vabbè Vado io Almeno speriamo di fare un goal Goal Forse no Eh vabbè, però SeanFrost è un po' scarso Infatti non sa tirare Però io Just grande SeanFrost che mi intercetta Però gli fa goal Mi raccomando Seguite SeanFrost 1 Ok, lui è fortissimo E' molto forte Si, si E' fortissimo Va bene Va SeanFrost che tiri bene Vedete che è troppo forte Va bene E' pronto Ho parata Ho parata Ho parata Sono forte Bravo JacoFelix Cuxy Allora Nooo No non c'ho busto Però ne ha bumpato uno Uno lo ha scavallato Se qualcuno magari riesce a tirare Andiamo così Vabbè con le sparse loro JacoFelix mi trovo il busto Io driblo Poi è JacoFelix Mi interrompe Va bene Ho parata Nooo Uh che parata E' una mano Vai 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 Va bene Va bene Oddio Io ne ho bumpato uno Andate 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 Ci penso io qui Ci penso io Nooo Non è vero Io segno nella loro Vado a gol Vado a gol Vai 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 Sean Vai Sean Vai Sean No perchè Vabbè Nooo Cosa è successo? Cosa è successo? Nooo Quello è champion Vabbè Ma quello è champion credo Non lo so È vero Come fa ad essere champion quello Scusami Ma io non sono cariato Io non sono neanche champion Vai Tira Ma Non lo so Ma Vai Quassé Non è manco Il Bravo Sean Il Per Per Le ho 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 Nooo, vabbè è scherzo però Yako 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 García Camara E' un nome molto overpower Andiamo su quasi quello di Gesù Ma è attaccariato Ma è a sua sinistra Mi piace questa sua sinistra No Yako 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 Va bene, va bene, va bene Non c'ho bus Manco io ce l'ho Eh no Vai l'ho tancato, non ce manco io come Tira C'è manco il busto Nooo Non l'ho fatto a posto Vai 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 Yako Sì Vai raga Vai raga ce la possiamo fare Vai raga, vai raga, vai raga Ce la possiamo fare Vai, vai A sinistra la palla Non c'ho busto però, non c'ho busto Sì 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 Ma fai schifo Ma Ma Che stai facendo Drogato Da Sto qua è cagliatissimo Rai Vai 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 Yako Mi hanno bumpato però l'ho tolta Va bene Abbiamo sbagliato Vai vai Yako Vai Yako Vai Yako Eh sei storto Sto in mezzo io Sto in mezzo Sto in mezzo Sto in mezzo Sto in mezzo Va bene raga questa la vinciamo Mi raccomando Mi raccomando Toghiamo Calcolato Calcolato Calcolatissimo Credo Go Dai raga Raga Non sto a vederlo Vabbè però Un bel golle Però dovevo vincere Vado io Vado io Vabbè non vedo Lascia perdere Sean Frost Paravà Paravà Vabbè Vabbè Io sto in mezzo Grande potneva Va bene Lo sto bumpando Però passa In mezzo In mezzo In mezzo Pi' potente Oh Che trick Che trick Che trick Vada la Ah ho visto Lo so ma la kit fa queste cose E' molto bello Vado io Vado io Vai 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 Non so dove stai Però io prendo il busto Ho mancato la palla Noo Jaco Jaco Io sto in mezzo Io sto in mezzo Io sto in mezzo Sono il secondo palo Quando dicevano secondo palo Palo Noo Lo stavo tirando Però uno se mi sto proprio sopra di me Goal Ah Ho tolta Bravo Che succede Aia Tirate Tirate Vai Oddio Noo IlESTO In Che vi Sono quelle bombote Dillo Calcolatissimo calcolatissi Valar Il compr.. Se Il vuole se ne vanno, c'è da dove... vabbè... nooo meccate il busto ma jaco, vabbè va bene jaco si fa così mi raccomando sempre così vashon 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 non va Iaco è quello che tira grande Iaco minchia no cos'era ma che cos'era vabbè che culo eee davvero che sto cazzeggiando no 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 non farlo io stavo così ferma a cazzeggiare ma no perché io no no cioè io vabbè lasciare io non so neanche come spiegare cosa è successo perché vi dare in pausa no perché vi dare in pausa io faccio protesta vabbè 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 raga no problem si può sempre recuperare anche perché stami in verità come ha fatto vabbè vabbè vada a lei signor shoppers shoppers di merda vabbè ragazzi vi si iscrive non iscrivetevi mai a shoppers tattino basso vabbè 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 Spero commentate nei commenti E quindi raga noi ci vediamo Nel prossimo video e bella Arrivederci